Lavori che ci vedono impegnati per illustrare questo trittico compendiato in un solo volume dei saggi e del volume di poesia della Mignose Pecone. Dico solo che Sinfonia dello Spirito, di cui ampiamente tratteranno i nostri relatori, è inserito nella collana ritratti e biografia curata da Tommaso Romano per l'edizione Tule, mentre in copertina c'è un dipinto della dottoressa Marianna Sesta. Io penso, al di là del fatto che difficilmente saranno lette brane dei saggi, che il miglior modo per rappresentare le poesie è far declamare subito qualche poesia. Il titolo di questa poesia è Amore Cosmico Non sono parte del sole, né della luna né della stella, ma sono nata nel pianeta Terra. Il cielo è il mio tetto, l'erba è il mio letto, ho tanti fratelli si chiam terrestri. La mia casa era bella, ma or non è più quella, ma spero che un giorno ritorni ad essere, e ne sono certa, com'era prima, anzi più bella, pulita, limpide e leggiadra, con la freschezza della rugiada. E anche i miei fratelli, s'ampi uniti, radiosi e felici, e pur se lontani si sentano vicini. Non solo ai contemporanei, in senso orizzontale, ma anche ai trapassati, in senso verticale. E siano sempre responsabili verso quelli che verranno. Pianeta Terra, dove anche animale e pianti vivono al riparo, e nelmeno il più piccolo fuscello d'erba sia calpestato, ne si senta mai escluso o dimenticato. Abbiamo cioè una sorta di mosaico anche della vita dell'autrice che ha scandito e scandisce la sua serena operosità su questi due binari. Dico serena perché un autore non deve essere per forza tramortito da grandi incubi letterali. Un autore può essere e deve essere anche, per carità, come tutte le cose diverse, diversificate, uniche, nella vita dell'uomo, può essere accostarsi con quella chiarezza e anche con quell'ospito direi quasi amabile rispetto alle cose della vita e del mondo che è l'ospito sereno, libero, con cui lei si muove. Ecco che i saggi e le poesie sono, insomma, ecco perché abbiamo anche fatto questa operazione, e concludo, abbiamo voluto fare questa operazione di riepilogo della sua attività prima per non disperdere, perché poi la cosa fondamentale nelle opere di un autore è la dispersione, spesso il dramma è la dispersione, ci si perdono le opere. È molto difficile poter perdere quest'opera, non solo per la mole, ma perché ha ricapito appunto questo cammino. E come cammino noi lo proponiamo, e lo proponiamo anche come cammino temporale, di meditazione e soprattutto di apertura del cuore. Ecco, la cosa importante è che questa scrittura è scrittura della propria interiorità che si manifesta nella storia, che si manifesta nel tempo, che si manifesta attraverso il ritmo anche del tempo e il ritmo del tempo sacro, perché c'è un tempo profano e c'è un tempo sacro. In questo caso il tempo sacro di Maria Elena Mignosi Picone è scandito attraverso questa comprensione dell'eterno attraverso questa riproposizione del Cristo vivo e attraverso questa pratica di vita che non è un fatto di memoria storica, il Cristo, ma è un fatto che ogni giorno diventa avvenimento, diventa ogni giorno scommessa di vita, pratica di vita anche nel lavoro, come dicevo prima, e anche nella vita concreta. Se è vero come è vero, quando ci piace un autore noi vogliamo sapere di più della sua vita, ma anche di quello che è stato, insomma da quale famiglia proveniva, cioè sarà capitato anche a voi penso. La stessa curiosità l'ho avuta anch'io e non è soltanto una curiosità, perché vedete anche nella lettura delle poesie, sia per temi che facendo un'analisi anche del linguaggio utilizzato da Maria Elena Mignosi, Picone, cioè uno capisce che deve approfondire l'aspetto biografico, anche perché il linguaggio è molto semplice, ma è molto musicale, e allora perché non approfondire l'aspetto della musicalità? Musicalità che a Maria Elena viene dalla madre, perché la madre di Maria Elena era una pianista, non dico affermata, perché non ha avuto forse il pregio di suonare insomma per il pubblico, però era una persona amante della musica e della pittura, e Maria Elena fin da bambina mi raccontava che a tre anni batteva proprio i pugni sul tavolo, si dimenava perché voleva imparare anche lei a suonare il pianoforte, cosa che poi peraltro, insomma, cercavano di calmarla dicendo sì, quando poi comincerai a leggere e scrivere potrai leggere che è il pentagramma, e quindi potrai imparare a suonare. Non sapeva leggere. Poi ha cominciato subito a leggere, proprio bambina precoce, e ha cominciato pure a suonare il pianoforte. Il libro tratta vari temi, tratta il tema dell'amore, che in questo caso è rappresentato come un abbraccio di una mamma con il suo bambino. Il tema della natura, del dolore e della fede, che invece è rappresentato come una mano protesa a chiedere aiuto, è la mano di Dio che lo sostiene. E diciamo che il compito di un illustratore è quello di rappresentare graficamente quelli che sono i concetti che vengono espressi dall'autore. In questo caso le illustrazioni sono state ispirate con immediatezza, sgorgate diciamo con una spontaneità dettata dal fatto che i temi sono stati particolarmente sentiti. E ho cercato di esprimere nelle forme e nei colori il concetto proprio di bellezza e di armonia inteso dall'autrice, la quale sostiene che ogni uomo con la sua vocazione è chiamato all'armonia con gli altri e non al contrasto e alla divisione. Con la buona volontà infatti si può, pur nella diversità, raggiungere la bellezza, che è pace e concordia. Ecco, Sinfonia dello Spirito mi sembra che sia veramente in tutti i suoi punti un racconto di questa esperienza. Anche a motivo della bellezza, dello stile, si è parlato molto dello stile, mi sono molto piaciute le cose che ha detto il professor Romano e tantissimo anche le cose che ha detto Elena quando quasi ci teneva a ricordare che la semplicità dello stile della zia non è innata, istintiva, ma è un punto di partenza conquistato attraverso una maturazione, un lavoro del pensiero c'è dietro quella semplicità. Ed effettivamente si è parlato di semplicità, di musicalità e di essenzialità. Io direi che lo stile della zia Mari è tutte queste tre cose perché fondamentalmente è uno stile trasparente. Ecco, io aggiungerei l'aggettivo trasparente. La scrittura della zia è una scrittura trasparente. Chissà, forse è lontana eco della scrittura di un compaesano dello zio Antonio, cioè del marito della zia, cioè di Pirandello, che diceva io non voglio essere scrittore di parole ma di cose. Ed effettivamente uno che legge concerto o luce e calore non si accorge nemmeno che c'è uno stile letterario in opera. Io non me ne sono accorto. Perché? Perché si vedono direttamente le cose di cui la zia scrive. Cioè è una scrittura trasparente che non dà a vedere se stessa ma ciò di cui parla, che è il servizio più prezioso che un autore può fare nei confronti di un lettore. Perché, diciamo, dello stile letterario di un autore sì, si può anche godere, però diventa un autocompiacimento fine a se stesso. Qui c'è invece uno stile che va dritto all'essenziale e che te lo restituisce in carne ed ossa quasi togliendosi di mezzo, no? La scrittura discreta, ecco la discrezione della bellezza. Sinfonia dello Spirito Uno dei libri che fa parte di questa trilogia è intitolata Concerto. Concerto viene la parola dal latino cum certamen che significa lotta con, non contro, ma assieme agli altri. Quindi lotta nel senso di impegno, impegno. Quindi quando ci si impegna a vivere assieme agli altri e allora come in un concerto dove c'è l'esecutore che ha il violino ma c'è anche la tromba c'è l'arpa ma c'è anche il tamburo ci sono suoni dolci, suavi ma ci sono anche suoni cupi, gravi, pesanti però viene fuori un'armonia, una musica che è meravigliosa. E allora il concetto è questo, quello che voglio dire che vivendo con impegno e non preoccupandosi della distinzione della diversità dell'altro e non cercando, come in genere si fa, lo scontro invece, la divisione appuntare subito il fucile contro di quello perché non è dei nostri e allora invece no, dobbiamo fare come in un concerto dove tutti i più diversi, i più disparati, i diversi formano una musica meravigliosa e questo è quindi il messaggio che voglio dare è questo che con l'impegno, con la lotta tutti insieme possiamo superare tutti i contrari. Applausi Grazie a tutti